Resta in linea con quello registrato nella giornata di ieri, il dato sui nuovi positivi in Toscana. Sono 169 i casi registrati su 11.420 test, considerando sia i 5.629 tamponi molecolari che gli stessi test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è all'1,48%, tasso che sale al 3,5 se si prendono in considerazione soltanto le prime diagnosi. Sul fronte delle vaccinazioni effettuate, queste hanno superato i 3,5 milioni, prendendo in considerazione sia le prime che le seconde dosi. Torna a salire anche l'indice del contagio in Toscana che sfiora di nuovo il valore limite di 1, 0,91 per la precisione. Sono 6 le regioni in Italia dove questo limite è già stato superato. Ciò che tranquillizza invece è il numero delle terapie intensive ancora ben al di sotto della soglia di guardia, una in più quella che si registra nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Alla domanda su chi siano i nuovi contagiati ha risposto l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini che ha messo in evidenza in consiglio regionale come il 70% delle persone che contraggono il coronavirus non ha fatto nessun tipo di vaccinazione. I contagi da Covid-19 aumentano soprattutto tra i più giovani. A rilevarlo è un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. La trasmissibilità sui soli casi sintomatici aumenta rispetto alla settimana precedente, sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale dovuta in particolare alla variante Delta. Il numero dei nuovi positivi non è però un parametro di riferimento, sottolinea il sottosegretario Andrea Costa che non esclude nuovi provvedimenti da parte dell'esecutivo.